Si ripetono le stesse cose ma simili ma diverse, vedi la finestra diversa in proporzione, la base rivestita una è più alta e l'altra è più bassa, non so c'è una disimmetria parallela E poi c'è stato dal 90 al 96 insomma ci ha lavorato molto Ma si perché lui andava giù, lo faceva con un muratore, con tre muratori, cioè delle cose, è proprio il contrario della logica Sì assolutamente, ma perché poi era la casa del sindaco, il sindaco non aveva soldi e quindi si fermava, faceva un pezzo poi si fermava